Il 2008 interessante e pieno di soddisfazioni, il 2009 un team professional che ha le ambizioni di grandi traguardi. Sì sicuramente, sono arrivati nuovi importanti come aeronautica militare, amica Cips e Knauf in questa società, sono arrivati ottimi corridori, ottimi tecnici come Martinelli, è cresciuto il numero del personale, ottimo anche quello, quindi sono tutte le buone prospettive per fare un ottimo 2009, meglio ancora del 2008. E dirà ti farà parte però dello zoccolo duro della squadra, sarà uno dei leader? Ma sì, ci sono insieme a Starlò, a Bertagnoli, a Anzà che sono quelli che hanno già esperienza, un po' di anni di esperienza professionistica, mi aggrego anche a loro, cercando di portare su i giovani e altri compagni e portare la squadra, l'aeronautica militare a fare delle buone vittorie quest'anno. Senza sbilanciarsi in facili proclami, quali sono i tuoi obiettivi? Ma guarda, mi sarebbe piaciuto poter fare il Giro Italia, purtroppo non siamo ancora dentro, siamo qua con la speranza di poterlo fare, e ovvio che se ci inviteranno, il mio obiettivo è quello di poter far bene e mettermi in luce in questo Giro. Ingegner Felice Tirabasso, responsabile delle relazioni esterne dell'azienda Knauf. Il nome Felice è tutto un programma nel ciclismo. Ma insomma, ho sentito dire che c'è stato qualcuno in passato particolarmente dotato in questo mondo. Speriamo che dalla nostra nidiata di atleti venga fuori un nome altrettanto altisonante e con dei risultati eccellenti. Sicuramente vincere gli obiettivi, i risultati, anche ambiti, anche difficili da raggiungere, fanno parte del nostro DNA. Abbiamo accettato sfide molto importanti da quando siamo partiti, dal 1977 in Italia, come attività piccola, fino a raggiungere degli obiettivi odierni incredibili, eccezionali. Siamo partiti da pochissimi collaboratori, da un sparuto gruppo iniziale, siamo arrivati a 250 collaboratori e siamo ben posizionati in Toscana con due unità di produzione industriale a Gambassi Terme e a Castellina Marittima. Gambassi Terme in provincia di Firenze e Castellina Marittima in provincia di Pisa. nonché la bellissima tenuta agricola a Bolgheri, in provincia di Livorno, e con tre importanti scuole di posa dove facciamo formazione agli installatori sui nostri materiali che sono a Milano, che sono a Napoli e che è a Pisa, sede dello stabilimento. Dottor Damiano Spagnolo, responsabile marketing e comunicazioni dell'azienda Knauf. Un'azienda che è entrata a pieno titolo nel mondo del ciclismo professionistico. Sì certo, la Knauf quest'anno ha deciso per la prima volta di sponsorizzare una squadra di ciclismo professionistico proprio perché crede negli stessi valori del ciclismo e soprattutto perché il ciclismo è uno sport popolare e la Knauf vuole diventare un marchio sempre più popolare presso il grande pubblico. Viene da anni ovviamente di leadership e di massima conoscenza presso un segmento tecnico del mercato. L'edilizia è leggera, quindi il nostro marchio è molto conosciuto presso distributori, progettisti, rivenditori e architetti. Vogliamo essere conosciuti anche presso la signora Maria. Un'azienda che negli ultimi dieci anni sta ottenendo successi su successi, che cosa si aspetta dallo sport agonistico? Noi ci aspettiamo innanzitutto di confermare quelli che sono i vostri valori del ciclismo, quelli che sono i nostri valori aziendali, quindi dell'impegno, del successo, di raggiungere sempre quelli che sono i risultati che ci prefiggiamo.